Buongiorno a tutti, oggi è lunedì 31 ottobre, sono le 9.48 e torniamo a parlare di MIB e di DAX. Se avete ascoltato le analisi del weekend, dovreste avere già abbastanza chiara la situazione. Abbiamo un tempo limite di salita dato dal secondo ciclo settimanale inverso, partito da questo massimo, sceso su questo minimo e che andrà a chiudere, o ha già chiuso, in settima barra qui. Che cosa può succedere dunque? Possiamo iniziare a ritracciare per far partire che cosa? Un nuovo settimanale inverso oppure un nuovo bisettimanale inverso. Questo perché? Perché possiamo avere un 3 tempi, 1, 2 e 3, oppure un 4 tempi, primo settimanale inverso, secondo settimanale inverso, terzo e quarto. Ovvio che se partirà un nuovo bisettimanale inverso, avremo più spinta e dovremo stare più giorni sotto questo massimo. Se questo sarà il massimo che vorremmo tenerci, perché oggi, purtroppo, ci saranno pochi, pochi, pochi volumi. Quindi c'è un rischio molto alto a fare trading, sia oggi che domani. Fate attenzione perché se siete dei neofiti, o se avete iniziato da meno di 1, 2, 3 anni a fare trading, meglio lasciar perdere. Godetevi le vacanze, utilizzatele per ritrovare energie e smalto e per guardare i grafici, ovviamente. Oggi noi cosa faremo sul MIB? Inizieremo a tenere d'occhio questo minimo, questo a 22.345 punti. Perché? Perché qui potrebbe aver chiuso a 23 bar il decimo t-3, purtroppo sì. Qui potrebbe aver chiuso su questo minimo a 36? Sì. Qui, a 43, anche. Per cui potremmo persino già essere vincolati al ribasso. Il primo livello su cui andremo a giocarci la partita della possibile discesa sarà questo. Questo livello dato dalla media mobile a 50 periodi, in rosso, che se verrà traforata ci porterà prima sul livello inferiore e poi sul livello... prima sul livello superiore e poi quello inferiore dell'acumo. A quel punto ci saranno i nostri livelli di algoritmo che ci diranno che cosa fare. Direi che in ogni caso, anche se andiamo in violazione di questo minimo, io per sicurezza vorrò attendere questo. Vorrò vedere, soprattutto dopo le 10.01, come si muoverà il grafico, che volumi avremo, che qui non posso farvi vedere, perché rimangono su volumetrica. E quindi, a quel punto, tra algoritmo, livelli dell'algoritmo, e tempo, ovviamente, e volumi, avremo un'idea di come muoverci. Ma prima di una discesa sotto i 22.345, nel tempo corretto, non farò assolutamente niente su MIB. Per quanto riguarda il DAX, DAX qui è una situazione differente. leggermente differente. Siamo andati a fare, allora, qui avevamo un massimo a 13.259, qui l'abbiamo fatto a 260, quindi questo si è trasformato nel, no no, T-3 inverso. Possiamo andare a fare così, così, in realtà possiamo serenamente andare a togliere anche il punto di domanda, e andiamo a fare un altro controllo interessante. In quanto tempo ci siamo arrivati, da un massimo all'altro, ci siamo arrivati in 41 barre, quindi ci sta. Ma attenzione, da qui potrebbe essere partito, dopo la 25esima barra, un decimo T-3 inverso? No. Da qui? perché è da qui che diventa interessante capire se siamo già su un decimo ciclo giornaliero inverso e siamo solo a 16 barre e quindi si può continuare a salire. Anche in questo caso il discorso è molto semplice, ovvero, per chi ragiona in termini di evoluta o di ciclica base, è semplice. Qui potremmo avere già avuto la chiusura, qui potremmo essere ancora in chiusura, perché siamo a 35 barre, quindi, su DAX dovremmo aspettare un pochino di più e vedere se eventualmente è partito il decimo T-3, ma stiamo parlando del decimo, della decima candela, su 11 massime più tutti i raccordi che volete, però siamo a 10, ovvero abbiamo ancora due possibilità di salire tra oggi stesso e domani, poi però discesa. Anche in questo caso discesa per un nuovo settimanale inverso come minimo, oppure un bisettimanale, perché qui abbiamo già fatto un T-1 inverso. Altre cose in particolare che non ci sono da raccontarsi, ricordatevi l'appuntamento delle 11 con l'IPC, il PIL e tutto quello che volete, che può essere l'unica cosa di cui fare estremamente attenzione nel breve periodo, non nel medio e nel lungo, nel breve e nel lungo poco ci interessa, nel breve periodo che potrebbe muovere un pochino un mercato che oggi potrebbe essere veramente anche molto molto lento per il fatto che non vedo grandissimi volumi in questo momento. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro uno splendido ponte se lo farete. Tra poco l'analisi su Bitcoin. Arrivederci! Grazie! Grazie!